Goletta verde inquinate le foci la barca di lega ambiente ha fatto sosta a termoli per analizzare la qualità dell'acqua adriatico in salute dicono ma problema di inquinamento alle foci dei fiumi e del depuratore. Debiti fuori bilancio il comune ripiana a Campobasso il Consiglio Comunale ha dato il via libera all'operazione finanziaria buco da mezzo milione di euro la maggioranza ha chiesto una commissione d'indagine. Leva e Fanelli la polemica continua a Isernia la minoranza attacca Palazzo San Francesco su un documento contabile intanto deputato e segretario del PD si scambiano accuse sugli elettori in fuga. Festa a Frosolone per la sfilata dei carri la ricorrenza del primo agosto celebrata con la tradizionale processione della perdonanza poi il piatto del giorno con il baccalà e i peperoni. Basket C Silver solo l'airino in campo nel torneo abruzzese molisano si scrive solo il termoli la cestistica a Campobasso punta sui campionati giovanili in serie B campagna acquisti del Benafro. Buon primo agosto un saluto a tutti voi dalla redazione di Tele Molise edizione le 14 del nostro telegiornale cominciamo con quelle che sono state le polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni le ultime settimane a Termoli soprattutto per quanto riguarda la qualità del mare a finire sotto accusa soprattutto il tratto dal castello a salire quello che viene chiamato lungomare nord ma la presenza di goletta verde conferma i dati che erano circolati in questi ultimi giorni e cioè che il mare è inquinato soprattutto nella zona delle foci dei fiumi ma finisce sotto accusa e non poteva essere al tenimento il depuratore sentiamo Manuela Iorio Consueto appuntamento annuale con goletta verde l'imbarcazione di lega ambiente che controlla lo stato di salute del mare e che ha fatto tappa al porto di Termoli. Tre i campionamenti eseguiti il 25 luglio lungo la costa in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli scarichi dei depuratori due dei quali sono risultati fuori legge si tratta delle foci del fiume Trigno e Biferno quella del Biferno è stata catalogata come fortemente inquinata quella del Trigno come inquinata e dove tra l'altro non è presente il cartello del divieto di balneazione. I controlli effettuati dal laboratorio mobile di lega ambiente sono fatti sulla presenza di batteri intestinali e di quelli delle feci che sono risultati oltre misura sotto accusa il malfunzionamento dei depuratori ma anche gli scarichi abusivi su cui purtroppo il controllo è difficile. Solide criticità sulle foci dei fiumi con carichi inquinanti molto elevati segno o di una mala depurazione o di scarichi illegali ancora presenti sulla quale tutte le amministrazioni delle costa e dell'entroterra dovrebbero lavorare in maniera sinergica per cercare al più presto di risolverle. Cosa si può fare? Si può fare tanto a partire appunto da un altavolo di lavoro tra tutti i comuni proprio per andare alla ricerca di quelle che sono le criticità che portano ad avere quel carico così elevato nei nostri fiumi. Sono come dire anche quello è un ecosistema da salvare anche perché quel carico inquinante arriva nei nostri mari dove poi come dire tutti quanti noi facciamo il bagno mettendo a rischio lo stato di salute del mare ma anche lo stato di salute dei cittadini e dei turisti. Il terzo punto campionato è lungomare nord nella zona sotto il borgo tra il castello e il depuratore dove sono arrivate 35 segnalazioni a partire dal mese di maggio da parte dei cittadini. Qui i parametri sono sotto i limiti ma comunque in quantità rischiosa come è stato sottolineato. Un quarto campionamento non previsto è stato eseguito alla foce del Sinarca proprio successivamente all'ordinanza di divieto di balneazione che c'è stata tra il 20 e il 22 luglio. Anche qui il risponso è funesto, fortemente inquinato. La Regione e le amministrazioni devono capire che bisogna intervenire urgentemente. La qualità e la salute del mare si difendono in inverno, ha affermato Rossella Muroni, presidente di Lega Ambiente. Sono passati dieci anni dal termine ultimo che l'Unione Europea ci aveva imposto per mettere a norma i sistemi fognari e depurativi, termine che non è stato rispettato tanto da ricevere due condanne e in corso c'è una nuova procedura di infrazione, ha spiegato la Muroni. Ma come si può intervenire? Intanto aderire alla Carta Nazionale dei Registri dei Fiumi, come già hanno fatto altre 13 regioni italiane, un nuovo strumento di pianificazione e gestione strategica e partecipata dei territori fluviali. Parliamo ora delle situazioni finanziarie debitorie nel caso del Comune di Campobasso dei due comuni capoluogo Campobasso e Isernia. Cominciamo da Palazzo San Giorgio dove oggi si è svolto il Consiglio Comunale, si è discusso proprio dei debiti fuori bilancio, circa mezzo milione di euro dall'aula consigliare è arrivato il via libera all'operazione di ripianamento, sullo sfondo anche la richiesta accolta di istituire una commissione di indagine per capire la situazione finanziaria e quali sono state le cause dell'indebitamento. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. La cifra sfiora il mezzo milione di euro ed è l'eredità che l'amministrazione Battista ha trovato all'atto del suo insediamento. Il Consiglio Comunale di Campobasso, dopo il rinvio della scorsa settimana, è tornato a riunirsi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, un atto dovuto per evitare ulteriori sanzioni a carico del Comune. Noi ci comportiamo come un padre di famiglia, dove ci sono tanti debiti che sono stati fatti negli anni pregressi e chiaramente noi andiamo a sanare perché c'è una sentenza del giudice dove ci dice che il Comune è debitore. Quindi noi con l'avvocatura del Comune andiamo a sanare, tra l'altro andiamo anche a ridurre la spesa di quello che si dovrebbe aggravare di più con gli interessi che si accomunano, trasferiamo gli atti alla Corte dei Conti. Ma dall'opposizione non sono mancate le critiche con i 5 Stelle che hanno anche ricordato come i debiti fuori bilancio siano il risultato delle passate amministrazioni di cui faceva parte chi oggi ha chiesto ed ottenuto l'istituzione della Commissione Conoscitiva. Si può accettare tutto, ci mancherebbe altro. Sorrido perché a volte ci troviamo di fronte a delle proposte che magari vengono fatte da coloro che nella precedente amministrazione hanno anche originato debiti fuori bilancio. Quindi io spostare l'attenzione sul fatto che l'amministrazione deve saper lavorare, punto. Poi che vogliono fare l'ennesima Commissione che purtroppo temo si possa ridurre semplicemente in un'ulteriore analisi di un qualcosa che comunque va pagato quello che dico è che probabilmente dovremmo concentrarci sul perché si sono originati i debiti fuori bilancio e perché si originano perché chi dovrebbe fare il proprio lavoro correttamente non lo ha fatto. Quindi a me interessa poco fare uno screening così per capire quanti ne sono mi interessa capire come evitare che i debiti fuori bilancio si verifichino perché oggi ne abbiamo approvati e stiamo approvando altri debiti fuori bilancio rispetto ai quali non ho timore di essere smentito c'è una chiara responsabilità e una chiara omissione da parte di alcuni organi burocratici del Comune di Campobasso. Riteniamo indispensabile un approfondimento su questi debiti fuori bilancio che credono vendetta nel senso che vanno approfondite le procedure con le quali si è arrivato a questi debiti esosi per l'amministrazione ma soprattutto vergognosi. In alcuni casi parliamo di benzina non pagata e anche situazioni penali che l'amministrazione vedrà in un certo senso impegnata a ridimere, a capire come si sono svolti. Quindi chiediamo una commissione così come prevista dal nostro statuto per approfondire come sono andate le cose perché non possiamo continuare a pagare per errori commessi anche dalle amministrazioni precedenti, dall'amministrazione attuale ma soprattutto anche dalle strutture che sono in adembieni in alcuni casi. L'Aula ha dato il via libera al riconoscimento dei debiti fuori bilancio con l'astenzione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che si sono astenuti anche dall'approvazione dell'Ordine del Giorno prima firmataria Maria Laura Cancellario che istituisce la commissione di indagine sulla situazione debitoria del Comune. A Isernia la situazione è un po' diversa ma comunque la minoranza solleva dubbi su un documento contabile che manca un documento secondo alcuni consiglieri che potrebbe addirittura determinare il commissariamento sullo sfondo anche la polemica che continua in casa del Partito Democratico tra Leva e Fanelli. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Il Comune di Isernia rischia un nuovo commissariamento lo afferma Roberto Di Baggio, consigliere di minoranza rappresentante della lista Isernia prima di tutto che sosteneva Rita Formichelli il comunicato dell'ex assessore dopo il Consiglio Comunale di venerdì in cui è stato approvato l'assestamento di bilancio. Per Di Baggio il documento contabile non sarebbe stato neanche portato in giunta gli assessori non lo hanno neanche visto, ha detto e non esiste una delibera sull'assestamento in tutti gli altri comuni si fa questo passaggio a Isernia invece no. Ho forti dubbi sulla legittimità del secondo Consiglio Comunale continua Di Baggio motivo per cui non ho assicurato la mia presenza e il mio voto in aula. È stato detto che bisognava approvarlo entro il 31 luglio che c'era un termine perentorio penso, sottolinea l'ex assessore che sarebbe stato meglio prendersi la diffida del prefetto e non arrivare ad approvare il bilancio senza nominare prima le commissioni con dei rischi relativi a difetti di notifica che potrebbero portare anche alla decadenza dell'amministrazione. Non si può cambiare un ordine del giorno dalla sera alla mattina senza prima annullare il precedente. A mio avviso, conclude Di Baggio, il bilancio è come se non fosse stato approvato. Si potrebbe profilare perciò un ennesimo commissariamento in caso di ricorsi da parte di qualcuno. Chiaramente la maggioranza difende il proprio operato e respinge le accuse parlando di totale legittimità delle procedure seguite. Infine da sottolineare ancora l'eco della presa di posizione di Danilo Leva che dopo quando è accaduto a Isernia con l'ingresso in maggioranza di tedeschi continua a chiedere il conto alla segretaria regionale Michela Fanelli accusata di aver gestito nel peggiore dei modi la tornata elettorale di Isegna e Dagnone. Per Danilo Leva non c'è nessuna alternativa a La Fanelli si deve dimettere subito. Insomma, mal di pancia e alta tensione all'interno di un PD molisano alle prese con un allargamento della giunta regionale che continua a tardare e con un'opposizione interna ed esterna che non sembra voler fare più sconti né a Fattura né a La Fanelli. Il soccorso alpino e speleologico è intervenuto per recuperare uno speleologo ferito durante l'esplorazione della grotta Cull di Bove nel Matese la grotta il cui ingresso è situato a Campochiaro a un dislivello di quasi mille metri e uno sviluppo di circa 4 chilometri. L'escursionista, un salernitano di 40 anni ha iniziato la spedizione con altri compagni dopo circa 4 ore alla profondità di 175 metri è caduto per la rottura di una fumene rimanendo poi bloccato al di sotto di diversi metri. I compagni hanno dato l'allarme a una squadra di tecnici del soccorso alpino è riuscita a raggiungere lo speleologo solo a tardasera la squadra di soccorso ha estratto dalla grotta l'uomo in buone condizioni di salute nonostante la caduta. Cambiano i biglietti per usare i treni regionali sarà possibile acquistare il ticket solo se si conosce la data precisa del viaggio Marta Martino ci dice le altre novità. I servizi su rotaia in Molise restano gli stessi di servizi in ritardi ma per quanto riguarda il biglietto ci sono novità. A comunicarlo è Trenitalia a partire dal 1 agosto il titolo di viaggio sui treni regionali italiani cambia riporterà l'indicazione del giorno in cui si vuole viaggiare potrà essere utilizzato entro un minuto prima della mezzanotte di quello specifico giorno quindi sarà ancora possibile acquistare il biglietto con largo anticipo 4 mesi prima ma solo se si conosce già la data del viaggio perché una volta acquistato il biglietto è valido solo e soltanto per quel giorno e per 4 ore dall'obliterazione. Se il passeggero è ancora in viaggio a bordo del treno allo scadere della validità potrà comunque arrivare a destinazione. La data del viaggio potrà essere cambiata una sola volta entro le 23 e 59 del giorno precedente è la data indicata sul biglietto. Il cambio è gratuito presso i self-service e le biglietterie Trenitalia mentre prevede un costo di 50 centesimi nei punti vendita SIS, Alpay, LIS, Paga di Lottomatica e Sir Tabaccai. Se il biglietto viene comprato in un'agenzia di viaggio potrà essere modificato nello stesso luogo ma la commissione sarà variabile a descrizione del titolare. Sarà comunque possibile il cambio di itinerario e il rimborso del biglietto in caso di rinuncia al viaggio ma sempre se effettuato entro le 23 e 59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto. Questa nuova modalità di acquisto spiegata in Italia permetterà di migliorare i controlli su chi viaggia senza biglietto sia a bordo treno sia nelle stazioni e inoltre assumendo informazioni più precise sulle stazioni di partenza e d'arrivo e sulle date di viaggio sarà possibile avere un'idea dei flussi di viaggiatore e degli orari e tratte clou. Ciò, dice l'azienda, servirà a migliorare l'offerta. Le novità non avranno impatto sugli abbonati per i quali invece è prevista un'ulteriore semplificazione infatti chi avrà un abbonamento regionale acquistato online potrà mostrare il proprio titolo di viaggio al capotreno in versione elettronica anziché cartacea dallo schermo dello smartphone, del tablet o del pc. Restiamo in argomento e parliamo di chi si prepara a viaggiare magari a prenotare una vacanza uno dei modi ormai più in voga è quello di scegliere alberghi e viaggio su internet ma attenti alle truffe altrimenti si rischia di fare la fine di un gruppo di studenti di Isernia che aveva prenotato un appartamento a Gallipoli ci dice tutto Sergio Di Vincenzo Tempo di vacanze ma anche tempo di truffe lo hanno scoperto a loro spese otto studenti sernini poco più che maggiorenni dopo le fatiche degli esami di Stato hanno pensato di concedersi una vacanza nel Salento navigando su internet hanno trovato un'offerta invitante proposta da un loro coetaneo residente a Sanremo un appartamento sul mare a Gallipoli affare fatto ma dopo aver pagato con un bonifico una caparra di 700 euro l'affittacamere è sparito insieme alla vacanza che i giovani sernini stavano già pregustando per loro fortuna la squadra mobile dopo un'attenda indagine sul web è riuscita a identificare rintracciare e denunciare il truffatore facendo tra l'altro un'altra scoperta il giovane Sanremese di origini calabresi di truffe ne aveva già messi a segno diverse solo negli ultimi giorni aveva affittato appartamenti inesistenti sulle coste toscane, pugliesi, romagnola e campane intascando ogni volta caparre tra i 500 e gli 800 euro ma dalle truffe sul web ci si può difendere ricorda la polizia di stato ad esempio il caso di farsi venire dei dubbi di fronte a dei prezzi super scontati per giunta permette molto richieste in ogni caso bisogna leggere sempre attentamente le clausole è lì che spesso si nasconde il trucco è inoltre consigliabile affidarsi ad aziende serie e benché non esista una tabella di siti sicuri ci si può sempre fare un'idea su chi propone una super offerta leggendo recensioni o pareri sui vari blog se qualcuno ha già rimediato un bidone state certi che da qualche parte lo scriverà ed è il caso di stare attenti anche quando si contatta direttamente un albergo è importante chiedere tutti i dettagli della stanza ma soprattutto farsi inviare una ricevuta in caso di pagamento anticipato salvo volersi ritrovare con le valigie in mano davanti all'hotel e con qualche soldo in meno in tasca e novità stavolta positive per i turisti e gli amanti della vita notturna soprattutto nelle zone di villeggiatura a Termoli è stata modificata la cosiddetta ordinanza del rumore dunque musica fino un po' più tardi sentiamo la nostra redazione musica fino alle 2 e non più fino a mezzanotte a Termoli il comune ha dato il suo ok al divertimento by night per venire incontro alle esigenze dei gestori dei locali ma anche dei più giovani che in estate restano fuori casa più a lungo il sì è arrivato durante l'ultimo consiglio comunale dove con 16 voti favorevoli e due astenuti è passata la variazione al piano di zonizzazione acustica per dare la possibilità ai locali di avere l'intrattenimento musicale fino alle 2 le domande dovranno essere presentate di volta in volta al comune che con questa decisione ha accolto l'appello che era stato lanciato dalla Confesercenti ma anche da numerosi operatori del settore la deroga sarà possibile solo in estate da giugno ad agosto la potenza massima consentita resta quella di 80 decibel il limite è già previsto per legge su cui il sindaco Angelo Sbrocca ha assicurato maggiori controlli per verificare che il limite venga rispettato il comune dunque spinge l'acceleratore sull'immagine turistica che si vuole dare della città maggioranza e opposizione d'accordo sulla Movida e il consigliere del Movimento 5 Stelle Nicolino Di Michele ha anche proposto di dividere la città in tre zone allungando fino alle 6 di mattina la possibilità di mettere musica per le zone periferiche proposta che verrà valutata in seguito E domenica alternativa per gli attivisti del Movimento 5 Stelle a Termoli che hanno ripulito l'area di Pozzo Dolce nei giorni scorsi c'erano state denunce sul degrado in cui versava la zona dovremo vedere anche le immagini dalle parole gli attivisti sono passati ai fatti e si sono armati di guanti e sacchi ne hanno riempito una ventina con rifiuti di ogni genere soprattutto lattine di plastica, bottiglie di vetro un'area centrale che secondo il consigliere comunale di 5 Stelle Di Michele è stata abbandonata l'amministrazione ora invece è stata abbandonata dall'amministrazione che ora invece è stata ripulita l'iniziativa del Movimento sarà ripetuta anche in altre zone della città vi avevamo annunciato le immagini ve le faremo vedere nelle prossime edizioni del telegiornale eccole qui ma ora possiamo anche andare avanti tutto pronto in località Santo Stefano invece per tre giorni di festa organizzata dal circolo anziani del comitato feste e dalla Proloco prende infatti il via stasera a partire dalle 18.30 il programma di eventi il primo appuntamento è lo spettacolo con la pizza mani in pasta è dedicato ai bambini e si protrarrà fino a tardi domani invece sarà una serata con ritmi folk salentini del gruppo musicale Armamenia e a seguire il 3 agosto invece la chiusura con i Santo California dall'indimenticato sapore degli anni 70 e si è invece conclusa la manifestazione a Campodipietra dedicata per tre giorni al tratturo ce la racconta Giuseppe Carriera sono giovani, adulti e anziani hanno svolto diversi percorsi di vita alcuni di loro lontano dalla terra di origine altri invece abitano ancora qui ai margini del tratturo quella strada che unisce storia e futuro tradizione e antichi commerci amore per la natura e rispetto degli animali tante le testimonianze nella tre giorni che ha portato tanti visitatori incontrata a San Giovanni Cerreto di Campodipietra tra queste Elio Cardillo presidente della Onlus il tratturo che sulla valorizzazione di questi luoghi ha sempre creduto concentrando ogni sforzo noi cerchiamo di valorizzarlo anche dal punto soprattutto dal punto di vista turistico infatti in questi anni abbiamo assistito a un incremento del turismo fatto di pellegrini diretti verso Monte Sant'Angelo di camminatori del tratturo a questi noi offriamo come associazione un'assistenza logistica cerchiamo di indirizzarli verso le strutture ricettive del territorio che circonda il tratturo quello di Campodipietra di San Giovanni in Caldo di Toro e spesso io stesso accompagno questi pellegrini a visitare le nostre bellezze sia archeologiche che artistiche ad esempio ultimamente ho accompagnato un gruppo di signore veneziane al Tempietto Italico di San Giovanni in Caldo Giuseppe è il postino del paese di gente ne vede tanta ma ancora ricorda con gli occhi lucidi i pastori che fino a pochi decenni fa attraversavano regolarmente questi luoghi io ancora ripeto e ancora mi sento ancora il cuore che batte perché sentivamo quei campanacci da lontano era una cosa bellissima Agostino è uno dei custodi del tratturo 95 anni compiuti come racconta il suo nome di battesimo non è nato qui ma è arrivato da Riccia come tanti che hanno preso il posto dei Campopetresi che emigravano verso gli Stati Uniti erano gli anni 50 ma uno degli sguardi verso il futuro viene testimoniato da un giovane cavaliere per lavoro risiede nel nord Italia ma appena può torna dalla sua gente dai suoi affetti dal suo cavallo anche indossando pesanti abiti di ispirazione medievale nonostante il caldo intenso una manifestazione in primis per stare insieme per creare un gruppo cerchiamo di fare gruppo di stare insieme e di creare qualcosa e lasciare anche giovani che verranno nelle generazioni future speriamo che questa manifestazione lascia nei cuori della gente qualcosa di concreto diverse le iniziative in questa tre giorni spettacolo sport dimostrazione di caseificazione in diretta e la mattinata della domenica dedicata alla Madonnina del Tratturo portata in processione accompagnata da cavalieri in costumi di ispirazione medievale un momento di riflessione animato da Don Saverio di Tommaso e un lungo percorso a piedi con la statua fino all'edicola che la custodisce per tutto l'anno e a Sulmona invece si è svolta la giostra cavalleresca che ogni anno richiama nella città abruzzese migliaia di appassionati un'edizione questa durante la quale hanno partecipato alla sfilata del corteo storico anche un centinaio di figuranti dei crociati e trinitari di Campobasso le immagini sono amatoriali le due associazioni infatti sono gemellate e l'invito è stato esteso anche ai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Campobasso alla giostra prendono parte le sette contrade del borgo e rappresenta il punto più atteso della vita culturale e sociale della città dei confetti crociati e trinitari si ripromettono ora di restituire l'invito ai sulmonesi in attesa che Palazzo San Giorgio fissi una data per la rappresentazione della storica pace tra le due confraternite cittadini dei crociati e dei trinitari ed è tutto pronto a Frosolone per celebrare il primo agosto appuntamento sentitissimo con la sfilata dei carri allegorici e poi con la scorpacciata di baccala e peperoni sentiamo Patrizia Testa manca ormai pochissimo al classico appuntamento del primo agosto a Frosolone l'evento parte questo pomeriggio per animare fino a notte fonda il centro del paese le origini della manifestazione sono di carattere religioso sono infatti legate al cosiddetto rito delle passate e alla festa della padronanza francescana una festa di antica memoria è la quarantesima edizione i festeggiamenti religiosi sono arricchiti dalla tradizionale sfilata dei carri allegorici un appuntamento che coinvolge tanti gruppi di giovani ma non solo sono tanti quelli che si impegnano a costruire i diversi carri per animarli poi durante la festa ma al primo agosto a Frosolone si associano anche specialità culinarie un menù semplice quello proposto a base di baccalà e peperoni l'evento che richiama ogni anno il pubblico delle grandi occasioni è organizzato dalla Proloco in serata l'atteso concerto del maestro Ambrogio Sparagna uno dei maggiori esponenti della musica popolare italiana che salirà sul palco per proporre il suo repertorio è legato alla manifestazione anche il concorso fotografico Carro Frame un modo per coinvolgere tutti gli appassionati di fotografia professionisti e non a caccia di scatti singolari e divertenti e domani si apre il sipario a Casa Calenda sulla quattordicesima edizione Molise Cinema alle 19 nella sala consigliare l'inaugurazione della mostra Un mondo di cinema di Paolo Di Paolo poi ci sarà la varichina la vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis di Mariangela Barbanente e Antonio Palumbo alle 21.45 proiezione di Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso alle 22 senza distanza di Andrea Diorio quattro le sezioni del festival corti internazionali corti italiani documentari lungometraggi opere prime e seconde dunque appuntamento a domani con gli appassionati del cinema noi invece ci fermiamo per questa edizione delle 14 vi lascio alle previsioni del tempo ci vediamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti grazie e a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti